Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi, come avete letto dal titolo, andremo a fare l'unboxing del Funko Pocket DJ Balmin. Allora, come state? Ed eccolo qui. Allora questo qua non è il primo Funko Popo che ho, infatti se volete che vi faccia la mia collezione scrivetemelo qua giù nei commenti. Per chi non conoscesse l'azienda Funko è un'azienda che produce giocattoli su licenza e principalmente conoscete per produrre più di mille action figure in vinile su licenza. Io direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti.